San Bernardo 3, Team Bellinzona ACB 99, la partita sarà diretta dall'arbitro signor Stadio Strima e in finale abbiamo le squadre del Team Bellinzona ACB 99 con in campo Adriele Zichella, Josue Elblick, Andrea Sirot, Gabriel Ibrahim, Daniel Tonelli, André Focas Ribeiro, Jonas Christen, Rui Filippo Soiero Govea, Stefano Guidotti per il San Bernardo 3, Janiel Guerciagli, Alessandro Briccola, Joelle Dell'Era, Ennea Fioroni, Manuel Lorenzi, Yannick Montorfani, Omar Pasteris, Giordano Spagnol, Ruben Ciriale, Pascal Blandino e Riccardo Casatelli Facciamo un applauso a queste due squadre che si giocano la finale, sportivi saluti a tutti, buona partita Facciamo un applauso a queste due squadre che si giocano la finale, sportivi saluti a tutti, buona partita Facciamo un applauso a queste due squadre che si giocano la finale, sportivi saluti a tutti, buona partita Facciamo un applauso a queste due squadre che si giocano la finale, sportivi saluti a tutti, buona partita Facciamoun applauso a queste due squadre, sportivi saluti a tutti, buona partita 3, 4, 1, Andrea 3, 4, 1, Andrea 5, 1, Andrea partita finita torneo terminato un grande applauso a queste due formazioni team Belinzona CB99 raggruppamento San Bernardo 3 che hanno disputato la finale si sono giocate le coppe di questo festival calcio dei ragazzi voluto dalla federazione ticinese del calcio organizzato dalla losone sportiva la finale è terminata con la vittoria del team Belinzona CB99 sul raggruppamento San Bernardo 3 8 a 2 invitiamo le due squadre finaliste del rispettivo allenatori di venire davanti al tavolo della giuria per piacere Paschi Manu suona l'onore e il piacere di avere qui sul campo oggi Simone Patelli membro della federazione ticinese calcio e Michel Mondu municipale capo di Castero Sport di losone i quali sono invitati a venire a ritirare le coppe consegnare la coppa al finalista alla finalista che si è classificato secondo raggruppamento San Bernardo 3 bravi ragazzi e la coppa del vincitore di questo torneo festival calcio dei ragazzi consegnato da Simone Paltelli della federazione ticinese calcio alla C Bellinzona 99 bravissimi di nuovo grazie a tutti a nome della sezione allievi della losone sportiva da parte del suo presidente signor Flavio Losa vi ringraziamo di cuore di aver partecipato a questa manifestazione vi auguriamo un buon rientro a tutti e di nuovo complimenti ai vinti e vincitori bravi bambini vinti e 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 v